So this is Christmas, Christmas Nukaz! Che Natale di merda, che Natale di merda! Madonna stracandidi di YouTube, che Natale di merda! Eppure, se torniamo a sei mesi fa, avremmo mai ipotizzato di essere a Natale del 2023 in questa situazione? Classifica che piange! Fuori dalla Coppa Italia! Non si sa di che cosa è fatto questo Napoli! Da chi è fatto! Perché abbiamo perso tutte le certezze! Ah beh, Giunto, Gli Spalletti, Kim, quello che volete! Ma quelli che sono rimasti? Ma chi sono? Ma chi li riconosce più? Eppure, hanno le stesse facce, hanno una maglietta diversa, perché qui in mezzo ha un triangolino che si sono pure conquistati con merito sul campo. Hanno addirittura lo stesso numero e lo stesso nome! Eppure, non sono gli stessi, c'è niente da fare, non li riconosci più, li guardi in faccia, ma non sono gli stessi. E in tutta questa situazione incomprensibile c'è lui! Lui! Lui che dice Garcià avrei dovuto cacciarlo alla presentazione a Capodimonte quando disse che non aveva visto niente del Napoli. Ma perché non l'hai cacciato? Perché? Perché non ti conveniva! Aveva già firmato! E quindi non... Sono tutte chiacchiere distintivo che devi tirare fuori adesso che le cose sono andate a scatafascio! Perché questa è la verità! Questa è la verità! E lo scatafascio nasce da tutte le tue scelte scellerate! Perché non hai ragionato! Non hai ragionato! Ti sei fatto prendere dall'ego smisurato tuo caro presidente Aurelio De Laurentiis pensando va via giuntoli! Ci sono io! Va via Spalletti! Ci penso io! Non hai ragionato! Perché in quel momento tu hai pensato loro se ne vanno prendo io le redini di tutto quanto e vi faccio vedere che senza di loro noi continueremo a vincere perché sono io il protagonista! Sono io che vi ho fatto vincere! però non hai pensato a una cosa la cosa che dovevi pensare era in 17, 18 quelli che sono anni di presidenza a Napoli tu non sei mai stato in grado di accontentare il volere della piazza nel male e nel bene perché per anni ti hanno detto papò caccia e sord pure quando li cacciavi perché secondo la piazza li cacciavi male non hanno mai accettato il tuo progetto perché tu facevi una cosa e la piazza voleva altro anche l'anno scorso quando ti è andata bene la piazza te lo ricordi Auree non ti fece uscire dall'albergo di Di Maro perché ipotizzavi che uscendo da lì saresti stato oggetto di contestazioni perché tutti quanti pensavano per vincere dobbiamo tenere Insigne e lui che cosa fa? non lo rinnova per vincere dobbiamo tenere Coulibaly e lui che cosa fa? lo fa andare via e prende un coreano per vincere bisogna tenere Mertens e lui che cosa fa? non lo rinnova e poi pensa di poter far andare avanti il Napoli con un ragazzino georgiano e poi andando a prendere gli scartini qua e là questo pensavano e invece li hai stupiti in positivo ma nemmeno l'anno scorso hai fatto quello che voleva la piazza non hai mai fatto quello che voleva la piazza e hai sempre dovuto pagarne le conseguenze tranne l'anno scorso in cui ti è andata bene ah per inciso perché così ci togliamo proprio i sassolini dalle scarpe c'era anche qualcuno che diceva che non si poteva tenere Spalletti perché Spalletti è stato il responsabile di uno scudetto perso al finale della stagione precedente quella in cui lo vinse il Milan perché secondo alcuni Spalletti ci aveva fatto perdere lo scudetto perdendo in casa con la Fiorentina perdendo a Empoli con la sconfitta drammatica le colpe erano di Spalletti che non ci aveva fatto vincere lo scudetto questo si diceva e tu confermandolo in parte anche in quella situazione sei andato contro la piazza poi ti è andata bene una volta su 18 perché anche quest'anno hai fatto delle scelte contro quella che era la volontà o il pensiero della piazza e siamo tornati punto e da capo che hai in questo caso sbagliato andando contro la piazza ma adesso ne paghi le conseguenze e sei stato stupido mi dispiace usare anche questi termini perché in quella circostanza avevi la grande occasione per dimostrare che gli errori del passato erano stati capiti non sei tu non sei tu che puoi costruire una squadra tu puoi dirigere una società ma per costruire una squadra servono uomini capaci nei rispettivi ruoli un grande dirigente che sia in grado di suggerirti i nomi giusti e una volta scelto il nome in base anche alle linee guida che il nome ti darà scegliere i giocatori più adatti a quel tipo di calcio che vuole fare poi sulla scelta del preparatore atletico essa è stata un coglione essa è stata un coglione perché se hai un sinatti che ha sempre funzionato perché affidarti a quello che ti suggerisce qualcun altro sei tu il capo cioè adesso mi vorresti far credere che ti hanno costretto a cacciarlo ma non diciamo cazzate tu non fai mai niente che ti viene detto dagli altri è una scelta che hai fatto tu cioè dell'altro che non ci hai voluto dire perché tu sei così mezze verità però in questo Natale al di là di esserci una partita non dico fondamentale ma che dico fondamentale importantissima decisiva a tratti determinante quella di domani contro la Roma che può decidere tanto del nostro destino qual è il tuo argomento preferito in questo periodo parlare della Superlega e dire che sei disposto ad aprire la Superlega quando l'avevi combattuta all'epoca perché non ritenevi opportuno che ci fosse un clan di squadre per bacino d'utenza che dovevano partecipare un po' in stile NBA a campionato chiuso invece adesso durante l'intervista dici che la Serie A dovrebbe essere una Serie A d'elite con le squadre delle città a ore ma che cazzo ma una figura buona quando apri la bocca ma la vuoi fare sempre così ma sempre così poi c'è il mercato io non ci ho capito niente al di là del fatto che Elmas sembra ormai un giocatore dell'Ipsia la notizia non mi fa né caldo né freddo nel senso che secondo me è venuto come diamante grezzo e andrà via ancora come diamante grezzo se all'Ipsia dove probabilmente hanno dei metodi per sgrezzare giovani in rampa di lancio questo probabilmente sì lo vedremo nel corso del tempo però sto ragazzo non è mai esploso ci ha sempre fatto intuire di avere delle grandi qualità però poi la continuità è un altro mondo cioè tra il buon giocatore e il gran giocatore e il fenomeno ci sono dei gradi che fanno la differenza eh sto ragazzo la differenza l'ha fatta poco e a volte è più è stato più un peso per la squadra che altro quest'anno non aveva voglia quest'anno non aveva voglia probabilmente voleva andare via in estate e tornando agli errori di Mr. President anche lì se c'è gente che vuole andare ma che cazzo serve trattenerla cosa cazzo serve trattenerla contro voglia se io non ho voglia di mangiare la pasta con ragù perché in quel momento voglio mangiarmi una bella pasta e patana capro se mi dai la pasta con il ragù mi incazzo perché voglia la pasta e patana e caprovola e vale per tutto non per i giocatori per la pasta con la provola eccetera vale per tutto e invece no tu devi rimanere perché hai un contratto e devi stare zitto e muto e i risultati si vedono i giocatori non sono tranquilli sono esseri umani non sono macchine ma questa cosa proprio non entra quindi andando via Elmas comunque un buco lì in mezzo si crea comunque abbiamo un giocatore che se resto va via è inutile Demme se resto va via è inutile Gaetano Zelinsky chi lo sa perché se non rinnova finirà fuori rosa pure lui quindi abbiamo dei buchi a centrocampo calcolando pure che abbiamo anche in Coppa d'Africa cioè praticamente noi ad oggi siamo con Cajust e e lo vodka pelo più pelo meno eh quindi lì bisogna intervenire bisogna capire in difesa come muoversi perché oh parliamoci chiaro non abbiamo un centrale affidabile cioè i centrali affidabili sono altri magari il Rachmani dell'anno scorso che magari si può recuperare psicologicamente Nathan si però ne serve uno ancora di più serve il giocatore d'esperienza adesso dico un nome non vi incazzate la Cerbi che ha esperienza che ha fisico che ha testa che ha eh tutto quello che può essere utile per affiancarlo di fianco a giocatori che magari qualche lacuna un po' d'esperienza un po' tattica tecnica lui può migliorare un po' la situazione servirebbe un elemento del genere non l'ennesimo giocatore da far crescere non c'è tempo adesso il giocatore da far crescere lo prenderemo magari ad agosto adesso serve il giocatore pronto subito se va via Zanoli serve l'alternativa ma sembra ormai fatta per Mazzocchi dalla Salernitana sulla sinistra con Mario Rui e il rientro di Oliveira più o meno siamo a posto là davanti bisogna capire quello che può succedere tutto può essere però un mercato in divenire adesso però non è tempo di pensarci adesso è tempo di incazzarsi e continuare ad essere incazzati per un Natale che doveva essere migliore doveva e poteva essere migliore ma adesso in gran parte dipenderà dalla partita di domani all'Olimpico contro la Roma dove ti giocherai in uno scontro diretto per le posizioni Champions tantissimo anche dal punto di vista psicologico nei confronti dell'avversario e dall'altra parte c'è un signore che per quanto possa essere discusso José Murigno il fatto suo lo sa quindi avrà capito probabilmente qual è il punto debole oggi del Napoli sicuramente sta qui quindi ci aggrediranno perché aggredendoci ci fanno capire la loro volontà mi aspetto una partita maschia dura cattiva bisogna risollevarsi perché chissà quanto pesano ancora nella testa di tutti perché nella nostra pesano ancora tantissimo i quattro schiaffoni presi l'altra sera col frosilone vedremo vedremo amici stracandidi per questo video è tutto io vi ringrazio vi saluto vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci rivediamo domani nel post partita di Roma-Napoli per vedere un po' quello che è successo e farci anche idealmente gli auguri di un sereno Natale start of a board